Sì, sì, perché adesso si vive sempre un pochino con la paura, però certo adesso piano piano anche noi stiamo iniziando a conviverci. L'ondata di furti di certo non fa dormire sonni tranquilli. Tornare a casa e trovarla devastata dai ladri è uno shock difficilmente superabile. Subire un furto non provoca solo danni materiali, ma anche un duro contraccolpo psicologico, perché viene violata la privacy. Si percepisce un'intrusione in casa propria considerata il rifugio più intimo e personale. Questo a volte produce insicurezza e paura per la propria incolumità e sorge il timore non solo che possano entrare anche quando si è già dentro, ma perfino di poter ricevere un'aggressione. Dai dati di un sondaggio condotto da Sigma Consulting risulta che la situazione più temuta dei marchigiani è proprio quella dei furti in casa. Seguono il degrado urbano come terreno fertile dove può crescere la criminalità, le aggressioni personali per strada, le truffe e gli scippi. Non tutti però sono d'accordo. In che modo vi tutelate? Niente, se vengono pazienza, tanto non c'è niente, semmai gli lasciano qualcosa spero. No, io non ho un sistema d'allarme, nel senso che non ho una casa neanche così appetibile dal punto di vista dei ladri, però non si può mai sapere in generale. Non ho neanche così tanta paura, nel senso che poi bisogna avere anche un atteggiamento nei confronti della vita abbastanza rilassato. Per coloro che invece ritengono la sicurezza un problema, la causa principale emersa dal sondaggio è la presenza di extracomunitari e clandestini. Non so, i ladri sono sempre esistiti, anche prima che arrivassero, adesso si dà la colpa soprattutto agli extracomunitari, i rom e via discorrendo. I ladri c'erano anche prima, però adesso forse se ne saranno di più. Ci odia che non arrivassero più da giù, dalla Sicilia, che ne arrivano tanti, tanti. Quindi questo secondo lei può influire? Sì, sì, è questo, è questo. Devono fermarli, se no qui andiamo a male. Ma si sente più sicura in questo modo? Sì, sì. C'è il cane che lui fa d'allarme. Adesso i fanesi cominciano a sparire, ci sono tutti gli altri per cui... Lunedì il sindacato della polizia ha denunciato la carenza di uomini e mezzi che ad oggi, secondo il segretario nazionale Gianni Tonelli, non sono in grado di garantire appieno la sicurezza dei cittadini. A Fano, inoltre, c'è una sola volante, ha detto Tonelli, che copre le 24 ore giornaliere e che a volte salta al turno di notte. L'attuale organico, inoltre, è composto da 43 agenti, mentre fino a pochi anni fa erano almeno 10 o 15 in più. A volte, poi, i malviventi bloccati dalle forze dell'ordine vengono rilasciati poco dopo. Come è successo a lunedì in zona Falcineto, dove una banda è stata intercettata a bordo di un'Audi A6. I carabinieri l'hanno inseguita, ma i componenti si sono dati alla fuga a piedi per i campi. I militari, però, sono riusciti a fermare l'uomo che era alla guida dell'auto. Lo hanno denunciato per porto illegale di armi e rimesso in libertà. Questo è il problema, che non dovrebbero lasciarli. E questo è il problema, però, purtroppo, è questa gente che viene qua, che deve mangiare, che deve... come fa a vivere? Lei ha installato in casa un impianto d'allarme, un impianto antifurto? No. Ha sentito che in questi giorni stanno mettendo segno di furti e purtroppo, insomma, vengono anche rilasciati subito i malviventi. Che cosa ne pensa? A me che cambiano discorsi. Manca un po' la sicurezza. All'anima. Sì. E' preoccupato? Se ci avessi miliardi, sì. Sul cancio. Ma come difendersi quando la propria dimora è disabitata? Una soluzione efficace è quella di installare un antifurto. In commercio esiste una vasta gamma di sistemi di allarme e il costo può andare dai 1.000 ai 3.000 euro, ma il prezzo varia a seconda della metratura dell'abitazione. E se si sceglie di installarlo solo nel perimetro oppure optare anche per i sensori volumetrici, quindi all'interno. E' fondamentale, inoltre, seguire alcuni consigli. Tra questi, quello di potenziare l'illuminazione esterna, perché i ladri preferiscono accedere dalle zone meno in vista e meno illuminate, e quindi spesso dal retro dello stabile. Altri suggerimenti sono quelli di non mettere targhe identificative come portachiavi e di non tenere oggetti preziosi o soldi contanti nelle camere da letto, perché sono le prime stanze prese di mira dai ladri. Segnalate, inoltre, qualsiasi persona o vettura sospetta alle forze dell'ordine.